Ciao a tutti! Come state? Per chi non mi conosce, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano online su VaporettoItaliano.com In questo video vorrei parlarti del mio e-book gratuito Parliamo Italiano! Six Tips to Fluency Se non lo hai ancora fatto, puoi scaricare l'e-book cliccando sul link qui sopra È gratuito ed è una risorsa molto molto importante Perché qui ho raccolto le tecniche principali per imparare o migliorare l'italiano in modo efficace E troverai anche le risorse migliori per imparare l'italiano e dove trovarle L'e-book è diviso in sezioni, ognuna dedicata a una specifica tecnica Per esempio scopriremo come essere circondati costantemente dall'italiano Come avere l'italiano costantemente con noi Questo è importante perché permette al nostro cervello di familiarizzare con la lingua Vedremo anche come rendere lo studio dell'italiano un'abitudine divertente E scoprirete le risorse che ci sono in internet Le applicazioni migliori per imparare l'italiano e dove trovarle Vedremo anche quali sono le tecniche migliori per imparare un po' di italiano ogni giorno Per costruire giorno dopo giorno un vasto vocabolario E vedremo anche come praticare in modo efficace, rilassato e senza stress Questi sono solo alcuni dei punti che troverete nel mio e-book Se lo avete già letto fatemi sapere cosa ne pensate Se non lo avete letto scaricatelo cliccando sul link qui sopra Noi ci vediamo al prossimo video A presto Ciao